Non c'è niente da fare per i 45 lavoratori del centro di ricerca della Tecnolabs Intex per i quali l'azienda conferme licenziamento. Un tavolo di trattative, quello convocato in provincia, abbandonato anche dalle parti sociali che lanciano un nuovo appello alle istituzioni locali. L'azienda non intende ricorrere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali con i contratti di solidarietà come invece proposto anche durante l'incontro a Roma presso il Ministero del Lavoro. Una possibilità quella dei contratti di solidarietà che avrebbe permesso almeno per due anni di continuare a lavorare e solo successivamente procedere alla mobilità e conseguentemente a licenziamenti. Un paracatute sociale previsto dalla normativa bocciato tuttavia dai vertici Intex Tecnolabs intenzionati a licenziare su due piedi i 45 ricercatori del centro di ricerca e innovazione più grande del centro Italia che impiega in tutto 143 persone. La procedura di mobilità, stando ai fatti inequivocabili, si intende avviata dal primo febbraio. L'azienda infatti comincerà a comunicare ai dipendenti in esubero la messa in mobilità, una messa in mobilità a cui seguirà il licenziamento. Purtroppo non ci sono assolutamente buone notizie. Dopo l'incontro di Iori dove l'azienda, la Intex, si è presentata solo per dire no, no, no a qualunque nostra proposta di utilizzo di ammortizzatori sociali, l'azienda vuole procedere per andare avanti per la sua strada procedendo con licenziamenti. 45 persone, 45 famiglie licenziate. A partire, pensiamo, da oggi possono cominciare a inviare le lettere, dunque non sappiamo esattamente quando arriveranno i lavoratori. L'unica apertura che ha fatto l'azienda e che poteva ridurre i numeri da 45 a un numero non precisato, dunque non si sa, può essere 44, comunque non è il numero, qui non deve uscire nessuno. L'azienda è venuta un anno e mezzo fa qui in azienda, qui all'Aquila, ha rivelato la Tecnolabs dal gruppo Comperl facendo grosse promesse di investimenti, cosa che non ha assolutamente fatto, ha attinto a ammortizzatori sociali ed ora procede ai licenziamenti. La Intex Spa rilevò il sito Aquilano della Tecnolabs solo un anno fa, subentrando al gruppo Comperl per rilanciare il centro specializzato in elettronica e telecomunicazioni già in crisi. Dopo diversi mesi, per 50 lavoratori, scattò la cassa integrazione per altri 20 dipendenti invece la mobilità volontaria. Il timore delle parti sociali e soprattutto dei lavoratori è che tra le intenzioni dell'azienda ci sia quella di smantellare il sito Aquilano, un tracollo occupazionale per la città dell'Aquila già messa a dura prova da una crisi economica senza precedenti che gli effetti del post terremoto hanno solo finito di aggravare. Il mese scorso un consiglio comunale straordinario, emergenza lavoro, il problema Tecnolabs resta risolto, 45 licenziamenti confermati, probabilmente qualcuno in meno ma ancora tutto da vedere dopo l'incontro ieri con la provincia e poca attenzione da parte delle istituzioni, ci dice sia la compagine sindacale che i lavoratori stessi. Ma per meno attenzione, abbiamo svolto un incontro, adesso vediamo, c'è una trattativa aperta con la proprietà, ripeto quello che ho detto in consiglio comunale, c'è il tentativo di salvare questi licenziamenti, ridurre il numero e dare le prospettive. È chiaro che qui va fatto un disegno industriale complessivo e stiamo mettendo intorno al tavolo le aziende omogenee che ci possono stare. dopodiché io francamente non credo che sia questo il momento di stare a raccontare tutto quello che si fa. Ci sono delle trattative. Il sindaco Cialente rassicura i dipendenti della Tecnolabs e intanto annuncia novità per il polo elettronico che dal 2011 è passato nelle mani del comune. Azienda in grado di garantire occupazione e soprattutto la permanenza all'Aquila nel tempo. Insomma non più la politica del mordi e fuggi, ribadisce Cialente, che all'epoca dei finanziamenti a pioggia alle imprese ha prodotto una lievitazione di aziende pronte a fare i bagagli al primo accenno di crisi economica. Dunque noi stiamo adesso intervenendo per rilanciare l'intero studio industriale, stiamo lavorando per portare una grande azienda e nello stesso tempo si sta lavorando per fare dell'occasione dei 100 milioni che abbiamo per il rilancio economico e produttivo, mettere insieme ad una azienda di imprese per rilanciare il livello degli investimenti, che vuol dire occupazione. Noi stiamo lavorando su questo, devo dire, allora recentemente abbiamo avuto una cena, adesso dobbiamo fare un'altra cena di lavoro e così via, non mi metto a dire queste cose.